Oggi siamo a Pavia e siamo venuti a visitare il castello di Mirabello che va messo a posto ed è il luogo di uno degli eventi più importanti della storia del Rinascimento e della storia militare in generale perché qui, qui dietro, è avvenuta la battaglia di Pavia nel 1525 che ha opposto Francesco I, il grande re del Rinascimento francese che ha vinto la battaglia dei giganti a Marignano e le truppe di Carlo V, il grande imperatore, e Francesco I fu sconfitto e catturato perché gli archivuggeri, per la prima volta spagnoli, decimarono la cavalleria pesante medievale, Francesco I voleva essere l'ultimo dei cavalieri medievali. Fu fatto prigioniero, poi restò in prigione, poi fu riscattato, gli è dei figli in cambio del suo riscatto. Forse questo è il luogo giusto per parlare invece di un argomento molto moderno che è la Comunità Europea di Difesa. Si parla tanto di esercito europeo, eserciti europei appunto sono scontrati ovunque qui. L'esercito europeo nasce da una risoluzione del Consiglio d'Europa del 1950, contestata a un certo punto dai francesi, che però propongono di fare sei divisioni, sei divisioni comandate, diciamo sotto coordinamento Nato, cioè una lunga diatriba e che riguardava soprattutto il riarmo della Germania, che è una questione che anche oggi è molto importante, finché a un certo punto i francesi fanno morire l'idea della Comunità Europea di Difesa, quindi dell'esercito europeo, e gli americani dicono andiamo avanti con il riarmo della Germania e facciamo la Nato. E oggi siamo in una posizione in cui la Nato non basta. C'è una struttura europea che è il coordinamento degli stati maggiori, c'è una struttura che è sotto l'alto rappresentante per la politica estera e che in alcuni casi ha fatto anche piccoli interventi. Quello che oggi va ripensato è il meccanismo per il quale possono convivere la Nato da un lato e quindi l'impegno che i paesi europei hanno all'interno della Nato è una forza comune europea. L'Europa spende, tutti gli stati membri, 240 miliardi di euro circa in spese militari, la Russia 150, quindi è la terza potenza mondiale. Il problema è che non lo è perché non è coordinata, gli acquisti non sono coordinati, i carri armati un po' se ne comprano di qua, un po' se ne fanno di là, anche noi abbiamo un po' di Leopard, abbiamo un po' di carri armati italiani. E questa è la grande sfida. Noi pensiamo che innanzitutto vada data corpo a una forza di reazione rapida. Questa forza di reazione rapida deve essere schierabile, soprattutto in ottima casa di contenimento oggi dei russi. E non basta, va fatta un'integrazione vera e propria utilizzando il bilancio europeo in modo che si incominci a costruire una forma di esercito sovranazionale, dove le persone possano proprio diventare soldati dell'Unione Europea, inquadrati in divisioni dell'Unione Europea, che consentano di costruire il primo nucleo, che non sarà sostitutivo degli eserciti nazionali all'inizio, ma che possa rappresentare il punto di arrivo di finalmente un'Europa che è anche potenza. Ci piacerebbe vivere in un mondo di erbivori, l'Europa erbivora, ma purtroppo il mondo intorno a noi è fatto di carnivori. E i carnivori si dissuadono quando si è armati, non si dissuadono con le buone intenzioni. E dunque da questo luogo che è stato uno scontro tra le due grandi potenze all'apice del Rinascimento, forse viene questo messaggio, che è tempo per noi, purtroppo o per fortuna, che l'Europa trovi la forza e il modo, dopo il fallimento della Shed, di dotarsi di un esercito finanziato e costruito dall'Unione Europea con un commissario alla difesa, un ministro della difesa. Era una proposta dei francesi, tra l'altro, anche questa. Un ministro della difesa che costruisca, parallelamente e integrati con le strutture del Senato, un esercito che domani diventi l'unico esercito dell'Unione Europea.